Proseguono i preparativi per la Notte Bianca di Pescara del 14 luglio, sarà una giornata di grandi eventi nel centro cittadino, ci sarà però anche qualche disagio, Vice Sindaco Brasioli per i residenti, per gli automobilisti, e quest'oggi in conferenza stampa si parlerà proprio della logistica di questa Notte Bianca, cosa accadrà? Ma intanto abbiamo visto l'edizione del 2017 che è stata un'edizione molto molto positiva per la Notte Bianca, tuttavia alcuni disagi ci sono stati, non mancheranno neanche quest'anno, però noi siamo andati ad intervenire principalmente sui disagi che abbiamo individuato nel 2017, cioè mezzi di trasporto della TUA che ha collaborato con noi anche nella realizzazione della Notte Bianca del 14 luglio 2018, che però insomma erano pieni fin dalla prima fermata, quindi fin dal primo capolinea, li abbiamo raddoppiati nella parte nord dove avranno un percorso quasi integralmente in sede riservata, il che consentirà il passaggio ogni 10-15 minuti, ci sarà anche un pezzo di strada parco che verrà utilizzato per il mezzo pubblico, mentre a sud le navette saranno addirittura 6, quindi sono state triplicate rispetto all'anno scorso, andranno da Piazza Italia, e anche questa è un'altra novità, le navette partiranno sia a nord che a sud da Piazza Italia, quindi dalla Piazza del Comune, abbiamo evitato insomma che si dovesse ritornare per entrambe alla stazione centrale di Pescara, per evitare diciamo dei doppi tragitti inutili. La navetta a sud arriverà fino a Francavilla, saranno 6, inizieranno a circolare dalle 17 fino alle 4 di mattina, questa è un'altra grande novità, e toccheranno sia a nord che a sud i principali parcheggi della città. Poi facciamo un appello naturalmente ai cittadini di Pescara e ai turisti naturalmente, che l'anno scorso abbiamo visto parcheggiare un po' dovunque, si attrezzassero almeno i cittadini di Pescara a camminare a piedi, a utilizzare il bus navetta che sperimentiamo in questi percorsi privilegiati, e soprattutto in bicicletta, cioè facessero in modo che i parcheggi siano riservati a chiunque verrà da fuori nella nostra città.